Ah, buon pomeriggio. Scrooge e Marley, suppongo. Ho io il piacere di parlare al signor Scrooge o al signor Marley. Il signor Marley è morto da sette anni. È morto sette anni fa. Giusto questa notte. Oh, ma non dubitiamo che la sua generosità sia ben rappresentata dal socio superstite. In questo gioioso tempo dell'anno, signor Scrooge, è più che mai auspicabile far qualcosa, anche poco, per i poveri e gli indigenti. Sono migliaia quelli a cui manca financo il minimo benessere, signore. Non ci sono le prigioni? Prigioni? Sì, sì, molte prigioni. E ditemi, gli ospizi sono ancora in funzione? Sì, certo. Vorrei poter dire di no. Il mulino dei forzati è tuttora in vigore? In piena attività, signore. Bene. Avevo timore che qualcosa avesse rovinato queste utili istituzioni. Sì, in questo periodo natalizio, alcuni di noi cercano di raccogliere dei fondi per comprare ai poveri da mangiare, da bere e qualcosa con cui scaldarsi. Quanto posso segnare a vostro nome? Niente. Oh, a voi piace mantenere l'anonimato? Mi piace non essere seccato. Io non festeggio il Natale e non vedo per quale sorta di motivo dovrei far festeggiare dei perdigiorno. Contribuisco a mantenere le istituzioni che ho nominato. E chi se la passa male è lì che deve andare. Molti non ci possono andare. Beh, in verità, molti preferirebbero morire. Che lo facciano allora! Così diminuisce la popolazione in eccesso. Buon pomeriggio, signori. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.